Amici ciao, vi mando questo video messaggio così dal cellulare per un appello legato ai muffloni dell'isola del Giglio. Saprete sicuramente che cosa sta succedendo, l'anno scorso ne hanno parlato alcune televisioni e anche diversi giornali. I muffloni sull'isola del Giglio sono considerati alieni e non perché vengono da un altro pianeta, magari. Sono considerati alieni perché lì, secondo i biologi o alcuni esperti, non dovrebbero vivere. Peccato che li abbiano portati gli esseri umani più di 70 anni fa. Da 70 anni a questa parte ovviamente si sono riprodotti e adesso sono considerati una specie invasiva. Che cosa si può fare? E' mai possibile che adesso si continui a parlare di eradicazione. Mi fa paura questa parola. In realtà eradicare una specie non significa nient'altro che eliminarla. Raramente si pensa ai trasferimenti. In questo caso so che sono stati tentati dei trasferimenti, alcuni hanno avuto successo, altri no, ma è un dato di fatto che purtroppo l'uomo da troppo tempo si arroga il diritto di decidere chi può vivere in un luogo e chi no. Un articolo sul New York Times di pochi giorni fa ha parlato di una ricerca fatta da alcune prestigiosi università americane che dicono che questo pianeta purtroppo, l'unico che abbiamo, sembra non avere più spazio per le specie selvatiche. Vi rendete conto? Noi siamo veramente l'unica specie invasiva. Pensiamo che determinate specie non possano vivere in ambienti dove non sono mai state, ma quali sono gli ambienti che hanno ancora posto per le specie selvatiche? Fermiamo quest'uccisione perché non hanno nessuna colpa questi mufloni e hanno diritto ad essere comunque rispettati nella loro esistenza. Ci saranno sicuramente delle alternative, ma dobbiamo dire no agli abbattimenti. Grazie.